La pace è amicizia, stare assieme, divertirsi. Tutti assieme è il campo sportivo di San Giuseppe, aiutati dalla temperatura mite e dal sole a festeggiare la pace. Abbiamo ballato! La pace è amicizia, è una cosa bella. La pace è una cosa fantastica, la pace è un dono. Protagonisti un migliaio di studenti delle scuole del comune, sul palco come presentatori gli ex studenti. La giornata della pace. I balli della pace, che ci piace, che ci comportiamo bene. Una giornata all'insegna dei festeggiamenti, ma caratterizzata anche dal minuto di silenzio, per ricordare l'ex preside Sandro Pizzato, morto lo scorso mese durante un'escursione sul Monte Grappa. Balliamo e giochiamo, ci divertiamo. La felicità nel mondo. Felici senza guerre e con la pace, con gli amici e tutto, senza litigare. La pace è un tipo di legame che ci unisce tutti.